Noi nasciamo come impresa di onoranze funebri principalmente per i nostri cari, per gli esseri umani, ma abbiamo voluto conciliare questa cosa per gli animali in quanto noi stessi possessori e amanti di animali, io personalmente ho tre cani, non abbiamo mai avuto un metodo di sepoltura adeguato a queste persone. Io le definisco, anche se sono amici a quattro zampe veri e propri, amici perché stanno con noi l'intera vita, ci danno tanto affetto, non chiedono mai nulla, sono sempre allegri, non provano rancori, quindi è una forma di amore puro che provano per noi, cosa che magari noi umani non riusciamo ad esprimere al 100%. Quindi abbiamo deciso di intraprendere questa strada anche per gli animali con l'assoluto rispetto che abbiamo anche per gli esseri umani. Quindi alla stessa stregua noi ci recchiamo presso le abitazioni, dai veterinari, ovunque il cliente ce lo richieda e ovviamente applichiamo la cremazione di questi amici a quattro zampe, di questi nostri cari, se vogliamo definirli così. Le cremazioni ovviamente sono di due tipologie, premetto che noi non facciamo smaltimento, sono due cose con cui ci si confonde spesso. Alcuni dei miei colleghi che non sono qui nelle zone, noi siamo gli unici a farlo a Pesaro, Riccione, Misano e nell'entroterra, dopodiché ci spostiamo giù nel Fanese piuttosto che nel Bolognese. Lo smaltimento è quello che solitamente si faceva una volta o comunque alcuni colleghi ancora fanno. Quindi gettare il nostro amico a quattro zampe in mezzo, scusate la parola, ai rifiuti, quindi smaltirlo tramite ERA, appunto, che comunque lo inserisce nei rifiuti di categorie speciali. Noi invece facciamo solo ed esclusivamente cremazione. Cremazione ovviamente abbiamo un forno dedicato esclusivamente agli animali, dove vengono cremati solo ed esclusivamente animali. Si possono avere due ovviamente forme di cremazione. La prima è una cremazione collettiva, in cui il nostro amico a quattro zampe viene cremato solo ed esclusivamente con altri animali domestici. Ovviamente in questo caso le ceneri non vengono restituite, perché sarebbe assurdo ridare comunque un po' di cenere del proprio animale mescolato ad altri. Poi invece c'è la cremazione singola, alla stessa stregua degli esseri umani. Ovviamente la cremazione singola viene comunque cremato solo ed esclusivamente il vostro amico a quattro zampe, da solo, vengono raccolte le ceneri e vengono messe in un'urna che noi comunque forniamo e in quel caso vengono restituite le ceneri come negli esseri umani. In entrambi i casi vengono fatti comunque verbali di cremazione e ci sono legislazioni ben precise su queste cose, in cui comunque sia sono alla stessa stregua appunto per noi umani. Quindi è un vero proprio crematorio, paritetico, parallelo a quello degli umani. E alle volte cerchiamo anche di consigliare, non vogliamo fare cose inutili e sprechi inutili. Quindi cerchiamo sempre, come per gli umani, di analizzare bene anche il lato, scusate se ne parlo, economico. Perché alle volte non dipende da noi, si vorrebbe sempre fare tanto, ma purtroppo oggi come oggi non si arriva dappertutto neanche economicamente. Grazie a tutti.